ecco vorrei segnalare all'attenzione del sindaco del comune di ventimiglia che per quest'anno è andata così ma il mercatino di natale pensavamo che fosse un vero mercatino di natale come quelli che si fanno nel nord italia in alto adige non che non ci fossero le casette che vendono i vini proprio davanti a una rivendita di vini un box del mercato che vende vini che non ci fosse l'olio la rivendita di olio proprio davanti a un negozio che vende l'olio che non ci fosse una salumeria che vende a basso prezzo salumi e formaggi quando qua all'interno del mercato c'è pieno di box una attaccata all'altro di salumieri pensavamo che fosse un mercatino vero di natale allora io direi che per quest'anno non ci avete agevolato noi aspettavamo dopo l'alluvione dopo il covid di fare un incasso migliore almeno durante il periodo di natale se proprio non ci riusciremo neanche quest'anno dobbiamo anche dire grazie a voi speriamo per il prossimo anno perché ormai è fatta ma per il prossimo anno se organizzerete di nuovo un mercatino di natale che lo facciate con più criterio grazie a tutti grazie a tutti